Nome. Patrick Kerny. Soprannome. Freeway Killer. Numero vittime. 21 accertate. Modus operandi. Arma da fuoco, tortura, squartamento, necrofilia, pedofilia. Patrick Kerny nasce il 24 settembre 1939 a Los Angeles, California. Era il più vecchio dei tre fratelli ed è cresciuto in una famiglia economicamente stabile. Era un bambino magro e sempre malato. Per questo era spesso vittima di atti di bullismo. Forse questa è la causa della sua futura follia omicida. Fin da ragazzino fantasticava sull'uccidere persone. Kerny, durante il suo alloggio in Texas, si sposò ma il matrimonio durò molto poco. Così tornò in California ed iniziò a lavorare come ingegnere presso una società americana di ingegneria aerospaziale. È in quel periodo che scoprì di essere gay. Si interessò alla cultura latinoamericana per attrarre potenziali partner ma alcuni di loro diventeranno le sue vittime. Nel 1967 si trasferì vicino a Los Angeles e si fidanzò con un uomo più giovane di nome David Hill. Col passare del tempo le cose tra la coppia andavano a complicarsi. Discutevano spesso e Kerny si faceva lunghi viaggi solitari con la sua macchina. È proprio durante questi viaggi solitari che uccideva autostoppisti o ragazzi nei bar gay. La sua prima vittima risale al 1962. Il nome è sconosciuto ma era un ragazzo bianco di 19 anni. Kerny aveva convinto il ragazzo a portarlo a fare un giro sulla sua moto in una zona isolata. Arrivati a destinazione, Kerny sparò in testa al ragazzo e aggredì sessualmente il cadavere. Stessa sorta è toccata al cugino della vittima. È il 1967. Kerny si trovava a far visita ad un amico intimo di nome George. Mentre George dormiva, l'assassino gli sparò in mezzo agli occhi, poi trascinò il corpo nel bagno. Lo appoggiò nella vasca e iniziò a sodomizzare il cadavere. Finito l'atto di necrofilia, lo smembrò e lo scoiò con un coltello. Poi estrasse il proiettile dalla testa e sotterrò il cadavere dietro il garage. Per paura che le forze dell'ordine indagassero sulla scomparsa di George, si fermò per oltre un anno. Dal 1974 l'assassino perderà il controllo. Commetterà almeno un omicidio al mese. Caricava ragazzi e uomini sul suo camion o sulla sua macchina, gli sparava alla tempia, successivamente guidava verso una zona isolata e faceva sesso con i loro cadaveri. Dopo aver finito di violentarli sessualmente, li mutilava, gli smembrava con un seghetto e buttava i pezzi in discariche o nel canyon. Cerny a volte drenava il sangue della vittima per eliminare l'odore e talvolta lavava le parti del corpo prima dello smaltimento per ridurre al minimo la presenza di sangue secco ed eliminare le prove delle impronte digitali. A volte, Cerny picchiava le sue vittime dopo che erano morti. Era un modo, a suo dire, per sfogare la rabbia repressa e provare il senso della dominazione. Spesso le vittime assomigliavano a chi lo aveva maltrattato durante la sua infanzia. La follia dell'uomo non si fermava solo su giovani uomini ma anche su bambini. 24 agosto 1974. Scomparve Ronald Dean Smith, 5 anni. 6 aprile 1977, Merlon Doshans, 8 anni. Rapito mentre andava in giro in bicicletta. L'assassino lo ha soffocato, portò il cadavere a casa sua e lo violentò per tutta la notte. Dopo averlo smembrato, liberò i resti nell'Angeles National Forest. Il 16 giugno 1976, Cerny uccise Michael Craig McGee, 13 anni, con un colpo di pistola alla testa. La vittima che alla fine ha portato all'arresto di Cerny è stata John Lamai, 17 anni, uccisa domenica 13 marzo 1977. Lamai aveva detto a un vicino che stava andando a Ridondo Beach per incontrare un un uomo di nome Dave, che aveva incontrato in una palestra locale. Questo era in realtà David Hill, che aveva dato alla Mai l'indirizzo di casa di Cerny. Hill era assente quando Lamai arrivò, così Cerny lo invitò a guardare la televisione finché Hill non tornò. Ad un certo punto, Cerny prese la pistola e sparò alla Mai nella parte posteriore della testa. Successivamente Cerny smembrò il cadavere e scaricò i resti nel deserto. Un proprietario di un negozio di alimentari locale di nome Jerry Stevens ha notato che Cerny acquistava frequentemente coltelli da macellaio dopo averli esaminati e aver chiesto informazioni sulla qualità dell'acciaio. Stevens ha anche descritto Cerny come una persona solitaria, che trasmetteva una sensazione inquietante. I resti di Lamai furono trovati il 18 marzo 1977. Tenendo in considerazione la testimonianza di chi Lamai aveva detto dove si stava recando prima della sua scomparsa, la polizia andò a casa di Cerny. La polizia scoprì presto che Lamai era stato visto in compagnia di Cerny e Hill. Hill, all'epoca 36 anni, alla fine fu liberato da ogni coinvolgimento nei crimini di Cerny e fu rilasciato. Cerny fece una confessione completa, ammettendo inizialmente un totale di 28 omicidi e successivamente altri 7. Al fine di evitare la pena di morte, ha accettato di dichiararsi colpevole. Cerny fu accusato di 21 omicidi e, come d'accordo, si dichiarò colpevole. L'assassino è incarcerato nella prigione statale della California.